Dietro di me si trova il Famedio, cioè il Tempio della Fama. Là dentro sono sepolti sette dei più illustri milanesi per nascita o per adozione. Il più importante di loro è Alessandro Manzoni, che è collocato proprio nel centro del Tempio della Fama. All'interno del Famedio vengono menzionati, per essere onorati, altri illustri milanesi, però non vengono sepolti all'interno del Tempio, vengono solo commemorati. Uno di questi è Giuseppe Verdi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.